Una terribile notizia che riguarda il famoso cantante italiano. Restate a guardare il video per i dettagli. Benvenuti su Quotidiano Notizie. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su quello che succede. L'annuncio struggente della dipartita di Paolo Grignani è giunto direttamente dal figlio, il cantautore Gianluca Grignani, che ha condiviso la notizia su Instagram insieme a un commovente tributo. Attraverso le parole di una canzone interpretata a Sanremo 2023, Gianluca ha salutato suo padre, Paolo Grignani, che ci ha lasciato nelle scorse ore. Nel post carico di dolore, le uniche parole che il cantante è riuscito a pronunciare per commemorare la scomparsa di suo padre sono state tratte dal brano, Quando ti manca il fiato, una dedica commovente al genitore, presentata proprio all'ultimo festival di Sanremo. La figura di Paolo Grignani è stata avvolta dal mistero per gran parte della sua vita, in quanto aveva un rapporto complesso con il figlio Gianluca. Commerciante specializzato in articoli per fotografi, Paolo aveva stabilito la sua residenza in Ungheria molti anni fa, dove aveva iniziato una nuova vita dopo il divorzio dalla madre di Gianluca Grignani, Elba. Nel corso degli anni, la sua presenza nella vita di Gianluca è stata limitata, e il loro rapporto è stato reso ancora più complicato dalla distanza geografica e dalle differenze caratteriali. Recentemente, durante una partecipazione al programma televisivo Domenica In, Gianluca Grignani aveva apertamente discusso del difficile rapporto con suo padre e dell'ingarbugliata dinamica familiare. Aveva condiviso una riflessione profonda sulla complessità delle relazioni familiari, sottolineando quanto possa essere impegnativo avere una famiglia. La canzone, Quando ti manca il fiato, rappresenta un atto d'amore e una sorta di riconciliazione tra Gianluca Grignani e suo padre. Il brano è stato scritto nel corso di molti anni e ha finalmente visto la luce a Sanremo 2023, dove Gianluca lo ha interpretato in modo struggente e intimo. La canzone cattura la profondità dei sentimenti del cantante verso suo padre, affrontando i momenti difficili e le complesse emozioni vissute durante la loro relazione. Gianluca Grignani aveva raccontato che la canzone era nata in seguito a una telefonata inaspettata da parte di suo padre, che dopo molti anni aveva chiesto se il figlio sarebbe andato al suo funerale. Questa domanda aveva ispirato il brano, che rifletteva la complessità della loro storia familiare. Nelle parole della canzone emerge il ricordo di un padre forte e ammirato quando sorrideva, un tempo in cui vivevano insieme e il giovane Gianluca lo considerava un eroe. Ma la canzone racconta anche di una separazione, con il passare del tempo e la distanza tra loro. Il brano tocca il tema della perdita, della mancanza e della difficoltà di comunicare sentimenti e risentimenti accumulati nel corso degli anni. Dopo vent'anni dalla terra dei ricordi. Mi chiamano. Con uno squillo del telefono. Ciao papà o addio papà io ti perdono, le mie lacrime sono sincere ma c'è chi non lo farà, tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio sarò il tuo orgoglio, recita la canzone. Su Instagram Gianluca Grignani ha voluto salutare suo padre per l'ultima volta utilizzando una citazione tratta da quella stessa canzone e per il resto ognuno giudichi se stesso. Questo gesto rappresenta un tentativo finale di comunicare al padre che le colpe erano condivise e che, nonostante tutto, c'era un profondo affetto. Il messaggio si conclude con un semplice ciao papà, un addio toccante e doloroso. Il post su Instagram di Gianluca Grignani ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e cordoglio da parte di fan e amici, dimostrando l'affetto e il rispetto che la gente nutre per il cantante in questo momento di profonda tristezza. La dipartita di Paolo Grignani rappresenta una perdita devastante per Gianluca e segna la fine di un capitolo complesso nella loro storia familiare.